Ciao e grazie di aver acquistato questo bonus e sono lieta, onorata e felice di portarti il messaggio di una maestra meravigliosa che è stata Giovanna d'Arco. Caro guerriero di luce, è giunto il momento di risvegliarti, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno che tu combatta contro l'ignoranza. Contro chi non crede, abbiamo bisogno che tu percepisca la nostra chiamata, perché siamo qui per dirti che siamo al tuo fianco. I guerrieri di luce sono un'unica grande legione, un unico grande reggimento. Ci muoviamo tutti insieme, in tutti i capi del mondo e noi maestri vi capitaniamo per far sì che i messaggi d'amore, i messaggi di protezione a madre terra, i messaggi di fiducia dall'alto e dal basso siano percepiti nel cuore. Sempre più persone si stanno risvegliando, grazie alla chiamata costante che noi maestri e maestre stiamo mandando sulla terra. E per questo ti ringrazio di aver ascoltato la mia chiamata e di stare ascoltando il mio messaggio in questo momento. Siete tutti chiamati a fare la vostra parte. Questa settimana ti prego di portare avanti una battaglia, una a cui tieni. Può essere una battaglia in favore di madre terra, in favore di un'associazione in cui credi, in favore di qualunque causa tu deciderai di sposare. L'importante è che tu riesca a sposarla con il cuore e a percepire noi maestri con la parte della mente. Io sono sempre stata guidata, quando ero incarnata, da sacre visioni. La mia più grande forza è stata proprio quella di credere in coloro che mi guidavano. L'Arcangelo Michele è sempre stato al mio fianco ed è stata la mia forza, così come in questa settimana io sarò la vostra. Ti prego di cercarmi nei segni che vedrai. Potresti ritrovare il mio nome, potresti vedere dei simboli che mi appartengono. E ti prego di credere, perché in questa settimana ti aiuterò a risvegliare la fede e la fiducia nelle alte sfere. Noi vogliamo collaborare. Tutti hanno bisogno di sostegno. Anche il più abile dei condottieri da solo è inevitabilmente più debole che in gruppo. L'unione fa la forza quando nell'unione c'è fiducia. E noi vogliamo fare un'unica grande squadra di aiuto a questo momento, di sostegno agli uomini e di sostegno a Gaia, il paneta che vi ospita. Noi abbiamo bisogno di collaborare con voi e voi avete bisogno di collaborare con noi. Io sono stata incarnata. La mia vita non è stata facile. Molti di voi conosceranno la mia storia. E chi non la conosce, vi prego, in questa settimana, di andarla a leggere. Perché potreste trovare molte cose in cui specchiarvi. Chiunque vuole aiutare, chiunque vuole dare il suo contributo, si vedrà criticato, si vedrà mistificato, si vedrà bloccato. Andate oltre. Combattete per ciò che è giusto. Fatevi aiutare dal potere del giglio. In questa settimana, acquistate un giglio e tenetelo in casa. Quella sarò io, presente. Parlatemi e vi risponderò. Chiamatemi e accorrerò. Desidero collaborare con voi. Desidero darvi tutto il mio aiuto. Perché avete grandi cose da realizzare. Ma non potete farle da soli. E non dovete più sentirvi soli. Noi maestri siamo al vostro fianco. Datecene l'occasione. Quando ero in vita, ho compreso quanto è complicato essere incarnati. Perché ci sono delle regole nella vita che rendono tutto più difficile. Ora che sono disincarnata, voglio contribuire ad aiutare tutti i guerrieri di luce incarnati. Lottando tutti insieme, raggiungeremo un meraviglioso risultato. Porteremo le coscienze a una nuova evoluzione. Abbatteremo le barriere tra visibile e invisibile. E ritorneremo tutti all'unica grande legge dell'unità, dove tutto è uno. Perché tutti noi siamo uno. Io e te siamo un'unica cosa. Lo siamo sempre stati. Questa settimana dimostriamolo al mondo. Vinciamo la nostra battaglia, piccolo o grande che sia. E una dopo l'altra ci uniremo tutti insieme. E vinceremo la più grande sfida che si sia mai vista. Salvare il pianeta Terra. Innalzare le coscienze e vivere finalmente nella legge dell'amore. Perché tutti siamo uno. Io, cara anima, guerriera di luce, ti abbraccio. E vorrei che tu chiudessi gli occhi e sentissi il mio abbraccio intorno a te. Sono sempre al tuo fianco. Non aver paura delle critiche. Io sono stata tanto criticata. E mi hanno solo resa più forte. Nel momento in cui c'è la connessione con l'alto. Nessuna parola umana può far vacillare il tuo cuore pieno d'amore. Vivi in questa frequenza, questa settimana. E tutto andrà per il verso giusto. Chiamami e sarò sempre al tuo fianco, più che mai. Ti amo immensamente e ti abbraccio. Guerriero di luce, sii benedetto. Ok, abbiamo una settimana importante. Portiamo avanti le nostre battaglie e diventiamo tutti uno. Ti abbraccio e ti auguro tanta, 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 tantissima luce. E grazie ancora per averci dato questa possibilità e aver preso il bonus. Grazie.